Ciao 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 ciao! Quindi è un grande piacere avere qui il leader dei Rockets che ci presenta questo progetto da solista. Sì questo è ormai da un po' che avevo in testa di fare un progetto da solo però avendo diciamo in cantiere l'ultimo album che abbiamo fatto lo scorso anno con Rockets che a Wonderland non me la sentivo di partire già con il progetto da solista quindi ho cominciato adesso diciamo durante il periodo delle un po prima del periodo del covid a lavorare su questo mio progetto che questo album si chiama Parler Words che sono 14 tracce visto diciamo che è rivolto verso il discorso del cinema per poter fare colonne sonore da film anche perché da grande voglio fare quello da grande insomma. E quindi lo so che questa è una domanda un po' magari che molti artisti non riescono a rispondere però c'è un pezzo che si è più legato in questo album? Sì assolutamente posso rispondere. Il brano si chiama Princess è un brano che avevo cominciato a scrivere 14 anni fa quando ho conosciuto Paola che è mia moglie. Avevo cominciato a fare questo brano e poi subito dopo l'ho messo nel cassetto anche perché non c'entrava assolutamente nulla con il discorso dei Rockets quindi ho detto vabbè non si sa mai. Un domani ci sarà spazio per questo brano che è bellissimo. Quanto è il cane. Grazie va bene. E quando quando si è deciso con il mio discografico a Roy Tarant di partire con questo progetto di soltanto strumentali il primo brano che ho tirato fuori dal cassetto è stato Princess e alla fine mi piace per varie motivi per discorso affettivo ovviamente e perché il primo brano che faccio alla fine musica classica perché c'è una traccia pianoforte a coda e poi sono sei tracce di violini violoncelli contralto e basta quindi sette tracce non mi era mai successo di fare un brano con sette tracce perché solitamente partisco con synth con tante cose e lì ho voluto fare una cosa minimal per proprio godersi la melodia che trovo bellissima poi dopo sei gusti colore non si possono discutere. Quindi la curiosità che viene spesso è come mai un leader di una band poi decide di fare un percorso da solista quando ti è venuta la voglia di fare questo percorso ma già c'è già cinque anni fa già da cinque anni avevo voglia anche perché volevo mi sei allora Rockets sono amo i Rockets sono cresciuto con i Rockets ho continuato col nome Rockets perché lo dovevo diciamo essendo nato proprio a livello musical quando avevo 19 anni con loro mi piaceva continuare col nome Rockets però a un certo punto mi sono detto ma credo che come Rockets a livello discografico intendo abbiamo detto tutto poi con wonderland per me il disco più bello che ho mai fatto come Rockets questo è galaxy e ho detto è tempo di di chiudere questo ciclo come tutte le cose nascono muoiono con i Rockets continueremo a fare sicuramente i concerti ok salvo Covid ma si ripartirà e niente cioè quella voglia di perché la voglia di far qualcosa da solo perché mi permette di essere di essere libero al cento per cento non ho non ho la gabbia Rockets ah no questo posso farlo questo qua non posso farlo devo stare attento a quello deve stare attento a quello no faccio quello che mi pare e questo non ha prezzo e quindi un appassionato soprattutto dei Rockets si deve aspettare con con genere musicale molto simile a quello visto nella band o ci deve aspettare tutt'altra cosa allora sono 14 brani e c'è veramente di tutto ci sono almeno tre brani che potrebbero essere i brani dei Rockets che sono Alchemy, Mezcal e solo Major Tom potrebbero essere tranquillamente i brani dei Rockets altri tipo Princess, Japan e Statue no c'è spazio davvero dalla musica classica all'electro al pop addirittura delle contaminazioni trap perché c'è un brano che si chiama Walk Away e col quale ho collaborato con un giovane DJ Axel Cooper col quale lavoro già da almeno cinque sei anni perché un ragazzo veramente di talento che tra l'altro ha fatto un botto quest'anno quest'estate con Alok con il brano Thé Bôté e chiamo Axel e gli ho detto Axel ascoltami un po' fammi una bassa batteria minore credo gli ho detto al quale Eloì si ferma e c'è una fabbola trap vuoi farla voi cominciate a fare la trap no no non ti preoccupare tu fammi sta roba qua e poi il resto so già esattamente quello che voglio fare vabbè quindi l'ho fatto modificare due tre volte mi ha mandato la base dopodiché ho finito il brano tra l'altro abbastanza in fretta perché sapevo esattamente quello che volevo e gli ho mandato il brano aspettandomi a insulti di tutti i generi ho detto questo qua sentire al brano che cos'è è una merda non è possibile non è trap cosa hai fatto invece mi ha mandato due tre messaggi che mi sono tenuto su whatsapp perché veramente mi ha fatto un piacere che non puoi immaginare mi ha detto faba hai fatto una figata è un vero viaggio non me lo aspettavo è un modo innovativo di vedere questo genere di musica anche perché non c'è la voce con la schifezza perché non la sopporto più con l'autotune ok decori vocoder molto belli ho messo delle chitarre synth molto aggressive una piccola melodia di piano semplicissima e tanti suoni etnici all'interno e davvero è particolare credo che potrà far strada in quel genere di musica beh infatti io comunque ho pensato molto al brano proprio perché c'è il coraggio di sperimentare continuare a sperimentare sì sì ma è importante allora se ti fermi a quello che fanno gli altri ma non farei più musica se devo fare quello che fanno già tutti no diciamo la musica la faccio perché la sento perché mi diverte e amo quello che faccio dal momento in cui non mi divertirò più smetterò di fare musica la farò per me e basta cioè suonerò per me e basta e quindi il sogno di fabrice soprattutto dopo aver pubblicato questo album fare ma il sogno io voglio fare come ti ho detto poc'anzi farm colonne sonore da film ok lavorando discografico con grossi editori a new york ea londra su questo genere di progetto e poi ovviamente fare live ho già ho già sto già lavorando da un po di mesi sul discorso live quindi ho una veramente una bella squadra con me lavorare anche perché non c'è un artista non non potrebbe esistere senza una squadra dietro non è mai uno vede l'artista e basta invece c'è dietro un grandissimo lavoro quindi ho la chimicura le luci laser con i rocchetti andrea vesnaver che mi sta studiando già un discorso di luci mapping neon e un po di laser ok collaboro con una bravissima stilista stilista di di pratica di grazia di grazio più una particolare del fatto di luci poi quindi avete un po' immaginato su come potrà essere un live sì poi da pochissimo sto cercando ma penso che faremo una bellissima collaborazione con gli urban theory che è un gruppo di ballerini italiani che fanno delle cose sincrono molto molto particolare e visto che stiamo lavorando sul discorso cina penso che potremmo far qualcosa dal vivo insieme a loro quindi sarà una cosa sicuramente divertente io come rocket sono sempre dato tanto peso al discorso visuale anche perché uno che viene a un concerto credo che deve essere trasportato in una dimensione diversa non soltanto non sono un cantautore ok quindi lì puoi far due luci uno ascolta i tuoi testi basta no a me piace dare il visuale e ovviamente il sound quindi dare qualcosa di di completo quindi sarà una cosa divertente credo ci ha lasciato la colina in bocca quindi speriamo di vedere presto e spero anch'io non vedo l'ora che sia finita questa 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 pandemia che sta rovinando ma non soltanto il discorso artistico gli artisti credo in primis perché proprio la prima cosa che è stato chiuso chiusa non si è più potuto fare il concerto l'ultimo concerto che abbiamo fatto credo l'ho fatto a settembre prima di settembre durante la international motor days che è un festival di tre giorni di moto macchine statman eccetera rappresentato da mio amico ringo e abbiamo fatto questo bellissimo concerto c'era anche i blu Andy dei blu vertigo c'erano altri artisti è stato l'ultima credo manifestazione importante in italia perché dopodiché è inciuso completamente quindi è stato un disastro quindi spero che si riesca a ripartire perché vedere la gente allegra col sorriso senza più queste mascherine che per me è utile perché vuoi non metterla però ti toglie l'anima brutta brutta atmosfera però appunto voglio tornare sempre sull'album quindi parliamo di cose belle e soprattutto per noi nostalgici vedere ritornare il vinile perché c'è il vinile dell'album altro che allora il vinile sono già un po di tempo un po di anni che faccio sempre il vinile perché credo nel vinile infatti non per nulla quest'anno le vendite dei vinili almeno in americano su fisico fa fatica però il vinile è una cosa cult una cosa lo prendi lo ha che prendi in mano lo guardi sono le foto in grande ha un suo profumo lo apri e vedi questa questa patacca lì bella tra l'altro io ho fatto copie numero numero numerotata non si dice numero numerata quindi 500 doppi vinile nero e 500 doppi vinile trasparenti che sono tra l'altro ormai sono stati sold out nell'arco di dieci giorni venduti abbiamo fatto lo stesso discorso con il cd abbiamo fatto 1000 cd a tiratura limitata con un bel booklet di 32 pagine e anche lì ne abbiamo venduto più della metà in un mese diciamo che non sono grosse vendite però oggi come oggi il fisico si fa fatica a vendere il vinile è una cosa che rimane per il collezionista sicuramente è una cosa che prende sempre più valore nel tempo e poi è bello inoltre è un modo è un modo di nuovo per far apprezzare la musica perché oggi come oggi io sto male a vedere i ragazzi che ascoltano la musica col cellulare io non posso non senti niente non scompaiono i bassi veri c'è solo acuti e medi acuti bassa qualità anche se ha le cuffie buone quindi il fatto di prendere un vinile vuol dire che devi avere un impianto a casa tua delle casse serie un amplificatore e un certo modo ripartire con la cultura musicale si è perso tantissimo l'italia era avanti negli anni 80 90 con la musica era veramente avanti anni luce adesso indietro ma non indietro come come artisti attenzione non c'è più la cultura musicale andare a un concerto la gente vuole andare a vedere la musica gratuita vuoi scaricare gratuitamente non l'ascolta come si deve quindi spero che questo discorso vinile si amplia sempre di più in modo tale che la gente si comprerà di nuovo gli impianti e apprezzerà ad ascoltare la musica come si deve anche perché appunto l'ascolto del vinile è impareggiabile anche la tecnologia non può arrivare a quello ma diciamo sai allora il vinile dipende perché la qualità 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 del cd sicuramente è più alta per un motivo semplicissimo un discorso di solchi per avere un buon ascolto sul vinile avere uno solco largo ragione per cui ho fatto un doppio vinile abbiamo fatto poche tracce quattro tracce per facciate in modo tale che il solco è largo quindi passano tutti i bassi è un discorso tecnico questo ma io non vorrei annunciare però così puoi ascoltare infatti i brani i brani su vinile anni 70 anni 80 si può guardare 7-8 brani e basta non potrei mettere 14 brani fai su un cd su un cd sai bene o male la qualità ce l'hai non c'è il fruscio del vinile se va a gusti però puoi fare dei vini di qualità si metti pochi pochi brani e quindi allora per chiudere un po' l'intervista una persona arriva in un negozio compra il vinile cosa si deve aspettare da questo vinile questo vinile deve aspettarsi di fare un viaggio di fare un veramente un bel viaggio vedo che ho letto una marea di decisione di il cd o il vinile che mi ha che ha fatto i commenti sono rimasto veramente di stuco perché ho soltanto gran complimento a parte uno ho visto una recensione su amazon che mi ha detto boh non voglio commentare ma per me non hai fatto non è un acquisto fatto comunque mi ha detto bellissimo un viaggio un viaggio pazzesco suoni innovativi penso che ho fatto la cosa giusta chi acquista appunto questo vinile farà un bel viaggio consiglio di ascoltare con le cuffie si ha delle buone cuffie oppure in macchina è un bellissimo compagno di viaggio perché ripeto vai su 14 mondi separati grazie Fabrizio per questa intervista è stato un piacere grazie a te ciao ciao a presto